eccoci ma allora c'era Nicola adesso qui con me ma tanto voglio dire dove è andato Nicola eccomi Marco arrivo arrivo ma allora ma arrivi da tu non te vedo eccomi eccomi sono dato un attimo aiutare la signora Natalia è stata gentilissima dove sei stato? siamo a Sant'Ippolito il famoso paese degli scalpellini non lo sai? ecco sei andato aiutarlo? sì perché sai che a me mi piace quando faccio i paesi a vedere le loro usanze ti ha fatto fare le sculture certo tutte le sculture quindi ciao io posso anche cambiare lavoro d'ora in poi ti lascio da solo fai i tuoi video fai continuo continuo ciao ragazzi mi ha lasciato solo lui è andato a fare le sculture buona visione e spero il video vi piaccia Sant'Ippolito a a a a a a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti